il termine manasca significa la mente priva di pensieri questo trattamento nasce dalla fusione di più tecniche che ho preso in 25 anni che ho passato in giro per il mondo l'idea era quello di aiutare le persone ad entrare in se stessi attraverso il contatto con il fisico amanasca è anche un percorso di crescita personale attraverso questo trattamento possiamo andare a vedere le dinamiche le credenze che limitano in questo momento la nostra vita non ci permettono di essere veramente liberi il trattamento amanasca può essere un punto di partenza un modo per entrare in contatto con la famiglia di lo shaman way e con i suoi operatori olistici esperti in shamanesimo la tecnica della manasca è quello di lavorare sui picchi di piacere assoluto e di rilassamento profondo in questo stato la mente a un certo punto troverà un equilibrio il trattamento amanasca è rivolto a quelle persone alle quali piace il contatto fisico corporeo è una danza a due è un lavoro che si fa a due userò un olio che arriva dalla thailandia è un olio molto particolare molto dolce molto fluido che permette di accarezzare il corpo delle persone è un atto magico un atto sacro le sensazioni che si possono avvertire sono tantissime e dipendono dalla persona dipende dalla situazione che la persona sta vivendo in quel momento del suo percorso di crescita personale o spirituale dipende dalle proprie paure dalle proprie credenze il luogo in cui siamo nati dalle persone con cui siamo entrati in contatto da come siamo in quel preciso momento che iniziamo a farci trattare con la manasca la manasca è un grande dono ti auguro di trovare il tempo per poterlo provare ha ho la manasca è un grande dono ti auguro di trovare il tempo per poterlo